Come sappiamo bene, Fortnite già da un bel po' di tempo ha messo le sfide segrete Che sono delle sfide che praticamente non si dovrebbero leggere, comunque nessuno le sa Però oggi, in questo video, vi farò vedere la sfida segreta di questa settimana Questo video è molto molto breve, però lo iniziamo subito Comunque vi ricordo, codici può uo' nei negozi oggetti Dai che iscrizione, qualora non l'aveste fatto, ci immergiamo subito in questa sfida Eccoci qua ragazzi, cosa bisognerà fare? Innanzitutto qua possiamo vedere degli ignomi Possiamo vedere degli ignomi che stanno assistendo a un gnomo mago, non so cosa sta facendo Noi dobbiamo semplicemente andare vicino raga, guardate cosa succede Così, a caso, discorso gnomo, così a caso raga, 25.000 XP Oh my god, e niente raga, questo qua è tutto Video molto molto breve, spero vi sia servito Bella ragazzati, sempre conti ci può uo'